Ups a tutti miei cari Upsini Upsine come state? Oggi sono qua solo per voi per registrare questo nuovissimo video fatto qua nel mio letto quindi perché sto registrando questo video? era già da un po' che volevo portare un altro video nel letto era già da un po' che volevo per esempio fare un video con questa fantastica coperta un po' così quindi ho detto registriamo un nuovo video nel letto anche perché l'ultimo che ho fatto era piaciuto quindi perché no ma adesso indossate un paio di cuffie o auricolari stendetevi sul vostro letto e cercate di dormire va bene? quindi cominciamo ho preso questa coperta morbidissima dentro è tutta fatta così quindi super super pelosa e imbottita morbidissima e fuori a questa fantasia a scacchiera possiamo dire nera bianca grigia a me piace molto fatemi sapere se anche a voi piace adesso mi metto un po' così perché poi mi fa male il braccio stare in quella posizione quindi cosa mi raccontate di nuovo? io avrei un po' di cose da dire devo però un attimino ricordarmele tutte come prima cosa però volevo chiedervi un consiglio perché non lo so ho l'impressione che il mio canale non stia crescendo tantissimo non lo so magari un'impressione è solo mia anche perché vedo sempre meno gente a commentare i miei video magari faccio un po' più di fatica a raggiungere le le visualizzazioni che vorrei raggiungere poi magari le raggiungo per carità però con un po' più di fatica e diciamo inizia un pochino a salire diciamo così quella piccola invidia che puoi avere guardando un altro canale smr quindi magari ti chiedi cosa cosa c'è che non va cosa sto facendo di sbagliato e cose così quindi se avete dei consigli generali oppure particolari su su come posso fare per migliorare in generale con il canale scrivetemeli pure qua sotto nei commenti che mi sarebbero molto utili sicuramente va bene va bene no 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 vi piacciono i video in generale ASMR registrati nel letto secondo me sono molto più rilassanti perché tu puoi immaginare di essere accanto alla ASMR artist in persona quindi adesso voi potete per esempio immaginare di essere qua qua straiati e potete immaginare direttamente che l'ASMR sia fatto apposta per voi che siete qua di fianco qua di fianco qua di fianco qua di fianco adesso faccio qualche suono prendo questa spugnetta non ricordo se l'ho usata oppure l'altra volta magari sì penso di sì però non mi viene in mente quindi del dubbio la riutilizziamo mi viene in mente tanto queste spugnette anche come sono fatte sono comode da usare e hanno un bel suono questi video però mi fanno venire sonno anche perché sono già comodo nel letto mi metto un attimino giù la cosa bella è che ieri non ho dovuto montare tutto l'ambaradam per il video perché non ho dovuto mettere lo sfondo le luci il tavolino davanti perché era un video diciamo era semplicissimo questo qua di adesso perché io ho praticamente solo telecamera cavalletto che tiene la telecamera e di là la ring la luce e basta quindi è molto molto semplice secondo me se tutto va secondo i miei piani da gennaio penso proprio di sì la location dei video lo tutto lo sfondo dietro dovrebbe cambiare non ne sono ancora sicuro però dovrebbe essere così sto già facendo le mie ricerche e comprando le varie cosette non so se si sente il suono tipo della barbetta dovrei farvela ogni volta sembro un barbone me la faccio non so ogni due tre settimane e dovrei anche fare le sopracciglia però non ho avuto tempo poi devo fare anche attenzione al filo delle cuffiette che mi ingarbuglio sempre quindi adesso poiché sono ancora più stretto diciamo è qualcosa di pericoloso diciamo ok dai ho preso un pacco di fazzoletti sono fighissimi con il pack natalizio veramente top secondo me voi siete già in un mood natalizio io abbastanza penso che a breve poi farò pure l'albero di natale con la mia famiglia quest'anno mia madre lo vorrebbe fare prima dell'otto per vedere se il mio cane va a toccarlo va a vedere cioè vogliamo vedere cosa fa Kira perché si inizia ad andarci contro e rubare le palline magari poi è pericoloso anche perché le palline non cioè sono non so di cosa sono fatte ma si rompono si cadono quindi le morte si possono rompere quindi lo dovremmo alzare su qualcosina e quindi appunto lo volevamo fare un pochino prima per questo mi sono steso un po' di più spero si veda tutto bene poi era da un po' che volevo fare un altro video in pigiama non so perché perché è comodo perché io quando registro i video vado la sera a dormire magari alle 10 10 e mezza massimo mi metto la sveglia alle 3 ma io mi alzo sempre prima cioè proprio di mio mi alzo prima ma non mi chiedete perché cosa faccio mi cambio la maglietta e poi registro cambio in pratica solo la maglietta i pantaloni tengo sempre quelli del pigiama quindi se in qualche video mi avete visto non so alzare le gambe e avete visto dei pantaloni erano quelli del pigiama e sono mi sembra quelli che sto indossando pure adesso però non lo so volevo portare un altro video in pigiama per essere più comodo quindi ho detto quale migliore occasione di un video registrato nel letto come avevo già fatto un altro video che Posiamo i fazzetti, dai. C'è sempre un po' di caos qua sopra, lo so. Aspetta, devo cambiare mano. C'è sempre un po' di caos. C'è sempre un po' di caos. Che bello che è il suono dell'acqua. C'è sempre un po' di caos. C'è sempre un po' di caos. C'è sempre un po' di caos. Perché acquario è un segno di aria. Perché se lo fosse chiesto, sì, sono acquario. Però tra i quattro preferisco l'acqua. Sarà anche perché ho passato la mia infanzia a guardare H2O, Macomero Meds e cose del genere. Quindi il potere dell'acqua c'è sempre stato. C'è sempre un po' di caos. C'è sempre un po' di caos. Quindi, 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 in questi ultimi minuti cosa possiamo dirci ancora? Ho bisogno di consigli per nuovi video. Però ti consigli che posso fare. Perché molte volte qualcuno mi scrive Ups, smr, fai questo qua. Però, effettivamente, mi risulta poi una cosa impossibile da fare. O perché non so come farlo. O perché non ho i materiali giusti. Quindi, alla fine, non lo faccio, appunto. Però mi rimane sempre quella cosa che dico Mamma mia, non faccio mai video che vorrebbero. Quindi, non lo so, divento un po' triste. Io cerco sempre di portarvi contenuti nuovi. Fatti per bene. Però non ci riesco sempre. E poi, in quest'ultimo periodo in generale, faccio un po' fatica a trovare che video fare. Per questo, faccio video semplici, con dei suoni, oppure video parlati, appunto, come questo qua. Quindi, dai, in generale, fatemi sapere un po' tutte le cose che ho chiesto nel video. Ma adesso vediamo se ho un ultimo trigger. trigger. Faccio così, mi metto un po' di burro a cacao, faccio due o tre mouth sounds, un po' così. E poi ci salutiamo, va bene? No, no, no. Sì, sì, sì. che fa gioia? che fa gioia? che fa gioia? mamma mia che sonno veramente quindi facciamo così vi lascio dormire va bene? cucù cucù adesso tocca a voi iscrivetevi al canale qua sotto se siete nuovi per entrare a far parte della OOPS community e se siete dei maschietti diventare i miei OOPSini mentre se siete delle femminucce diventare le miopsine va bene? poi lasciate un bel mi piace proprio qua sotto il video e commentate con tutto tutto quello che vi passa per la testa va bene ricordatevi che il mio canale è un posto sicuro quindi potete scrivere qualunque cosa potete anche scrivermi in privato se volete nella descrizione nella descrizione sempre ci sono anche i nomi di come mi chiamo nelle varie applicazioni quindi buonanotte 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 un bacio e noi ci vediamo al prossimo video buonanotte